vabbè che siamo in carnevale però io farò sempre sul serio allora vi faccio vedere il mio profilo e un'estensione che poi vi dimostrerò quale serve allora clicchiamo qua lo potete fare anche voi ecco io l'ho aggiunta, voi se volete lo aggiungete e per quale motivo adesso vi dimostro, aggiungete quanto cliccate il tasto sinistro poi se facciamo una ricerca, io ho già preparato Google allora vedete queste? intanto qua Google, ho messo i miei video, qua li trovate tutti quanti eccetera 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 vuol dire eccetera eccetera ma questa estensione che io volevo dimostrarvi essere, questa si aggiorna Gino ha postato su Facebook, questo è praticamente Twitter ogni volta che io posto qualcosa qua mi viene la notifica, se lo fate anche voi allora Gino ha aggiunto una playlist, vedete che è una giornata, tre ore fa, due ore fa mettiamo qua, clicchiamo qua, vediamo cosa ha postato Gino un video tutto qua ritorniamo ancora sul profilo di Gino ritorniamo ancora vediamo cosa si presenta sette giorni fa, sette giorni fa, otto giorni fa qua si sta aggiornando praticamente allora mettiamo vedete io posso andare nella ricerca, otto giorni fa posso cliccare nella ricerca clicco questo, passatempo ecco questo è il mio profilo di Twitter si chiama passatempo e tutti i video che io carico vengono qua caricate anche anche solo il profilo io tomo bene, allora avete capito cosa serve non solo non solo però se io dovesse andare so come più eccolo qua l'ultimo video che io ho caricato praticamente è questo anzi vado sul mio profilo ce ne sono tanti questo è il mio profilo l'ultimo video che io ho fatto è questo come è il mio profilo infatti lo chiudo ma faccio vedere questo ad esempio che l'ultimo ha caricato e lo faccio vedere anche su YouTube bene dopo questo è circa un'ora che l'ho caricato e già sono interessati a vederlo in settembre perché ho caricato tutti i i lavori a mia moglie perché è mia moglie non so se mi possa interessare è molto pratica questa cosa qua se la gente se chi usufruisce del computer lo sa ad operare bene questo sarebbe un attimo allora io clicco il tasto F il tasto F la lettera F si ingrandisce vedete se tolgo e clicco sulla M tolgo l'audio e rifaccio se voglio spostare il video più avanti uno dei nuovi rimetto il 4 come si vede parte veloce e bene allora ritorno da 0 clicco lo 0 e parto da capo bene io ho anche finito e rimpicciolisco con la F non solo se voi cliccate qua e finisco la giornata così in bellezza qua avete tutto quello che vi serve 8 minuti fa 8 minuti fa 26 minuti fa clicchiamo ok possiamo cliccare vediamo la cellulina sono piccole cose bene io concludo qua con questa ok bene io vi saluto ciao a tutti ragazzi domani e lunedì finalmente ehi ciao a tutti